ciao questo nuovo video che solito che faccio sui film che riesco a recuperare nel guardare che che adesso negli ultimi giorni sul mio canale sto facendo questi video dedicati ai film di lupin che anche se come film l'avevo già visto che che del 2017 li volevo dedicare questo video e portarlo sul mio canale che che come film essendo giapponese è riuscito il 4 febbraio del 2017 mentre in italia è arrivato il 23 ottobre del 2020 sulle solite piattaforme che li volevo dedicare proprio questo video a questo film di lupin che si chiama uno schiccio di sangue per che mone ishikawa che come regia di questo tra che sci coi che che soggetto proprio si imprimerà da parte di monkey punch monkey punch che l'autore proprio che ha sempre disegnato la parte dei manga sempre di lo pen che più che altro magari come si dice la trama anche se dura poco ma è un po difficile ma è da spiegare da spiegare che un uomo nei pressi di una lussosa villa sta tagliando la legna quando viene raggiunto da una bambina che gli mostra delle foto queste tre foto che dopo di che l'uomo si ama di asce e in sella la sua moto parte per svolgere il suo incarico che la scena maresi si sposta in questa gigantesca nave visca di proprietà della yakuza dove gammon è stato assunto come guarda del corpo di questo boss ma marchio in anni oa e che il quale ripone ma resta e ma fiducia nei samurai a differenza dei suoi sottoposti che nello stesso momento lo pene g che ne portano avanti magari di colpo per rubare il ricavato proprio della nave visca ma nella cassaforte incontrano proprio fuggito che aveva la stessa intenzione intenzione che l'upe nel fuggito decidono di dividersi il bottino ma improvvisamente la nave comincia a sbandare a causa di alcune esposioni e prende fuoco e pro e che non si dirige verso la sala macchina e dove si incontra questo hack l'uomo scomparso all'inizio proprio sempre le prime immagini del film che è meglio conosciuto come il fantasma della bermuda che un mercenario con l'incarco di eliminare proprio l'open gg fu dico e che mentre e che non combatte con contro questo au auk anni a questo in a in anima muore tra le fiamme abbandonato maria ai suoi uomini quali fanno poi ricadere la coppa proprio sul game on accusandolo di 9 di non averlo difeso che in a in anni uova giugno il figlio di marchio ordina che non di uccidere questo auk dandogli tempo tre giorni che nel frattempo l'open fu giugno si sono come si dice nascosti col bottino in questa villa e qui la donna racconta ai complici la storia proprio di questo auk e egli è un soldato americano famoso che per avere per avere ucciso solo più di duemila uomini durante la battaglia ma seguito di un ma a seguito magari di questo bombardamento durante questa missione nelle isole bermuda viene dato per moto per moto in quel luogo che tuttavia anni dopo è riapparso e da quell'episodio guardia guardiana guadagna il soprannone e soprannome di fantasma delle bermuda che però nello stesso momento mentre il trio si sta godendo magari il ricavato della rapina auk che in seguito che seguito sempre magari da zenigata ha deciso a fermarlo prima che possa raggiungere proprio l'open e li trova magari li trova e fa irruzione nel loro covo che quando l'open gli chiede le sue intenzioni le sue intenzioni risponde che è intenzionato a trasformarli in concime che magari non volevo più che altro magari scendere magari nei dettagli che che per di la mare in breve che finì e ma è bene ma è la trama come si dice questo spaventato morai e rendendosi magari conto di non poter male sconfiggere il samurai nelle sue condizioni si accende nervosamente un siglo e si dica sconfitto e dopo di che il lupe giga ne scappano mentre che mon per ringraziare di averlo assistito senza interferire con il suo allenamento tiene occupato sempre l'ispiettore zenigata anche anche se due come film e 250 50 minuti però come film merita anche sedua confronto gli altri film quasi la metà però nel compresso ma lei a chi piace lupe e queste sedi di lupere sicuramente solo va a recuperare questo qua che vi lascio come al solito tutto se tutto sotto in descrizione come faccio di solito tra il cast e degli attori che hanno partecipato a mettere la voce per questi personaggi di si vedono di animazione assieme magari videotrailer e la trama e se riesco a trovare qualcosa in più di informazioni trovate tutto come al solito sotto in descrizione e niente che quello che potevo dire su questo firma e magari l'ho già detta al massimo ci vediamo sicuramente più avanti con i miei soliti video che porto sul mio canale e niente per adesso vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao